Una marea di gente ha letteralmente invaso megalò nel giorno dell'inaugurazione di Primark, il primo store sulla costa adriatica del centro Italia del rivenditore di moda internazionale. Lunghissime e ordinate file si sono formate sia all'esterno che all'interno del centro commerciale di Chieti. Rappresenta il decimo store di Primark in Italia dove vengono create oltre 150 nuove opportunità di lavoro. La presenza di Primark contribuirà a confermare la leadership di megalò sul territorio abruzzese, sia per numero di negozi presenti nel centro commerciale che per le vendite e l'affluenza di clienti che non hanno subito flessioni, nonostante la pandemia e la crisi economica, come conferma il center manager di megalò Pietro Mauro. Il merito per me va soprattutto agli operatori del centro commerciale che ogni giorno con tanta dedizione riescono ad offrire un ottimo servizio ai visitatori del centro commerciale. Quindi ovviamente l'offerta merceologica, ovviamente il nome, il brand megalò è diventato anche negli anni molto solido nel nostro territorio. Oggi con questa grandissima apertura di Primark è sicuramente un ulteriore tassello nella giusta direzione per poter consolidare questo nostro successo anche nei prossimi anni. Dal punto di vista occupazionale cosa rappresenta megalò per il territorio? Dal punto di vista occupazionale anche qui megalò dà sicuramente un ottimo contributo al territorio del Chietino e della nostra regione. Sappiamo che calcolando anche l'indotto siamo circa sulle 1.000-1.100 persone che grazie a megalò lavorano nel nostro centro commerciale. Persone di tutte le età provenienti da ogni parte del Lavoruzzo e anche dalle regioni limitrofe non hanno voluto perdere l'occasione di visitare il nuovo negozio e fare shopping. Ampia l'offerta di prodotti esposti su una superficie di 4.000 metri quadrati. Abbigliamento per uomo, donna e bambino, beauty, accessori, tecnologia e molto altro, wifi gratuito, 33 camerini e 28 casse. Ha spiegato Luca Ciuffreda, Head of Sales Primark Italia. Quasi il 40% del nostro assortimento ha l'etichetta Primark Airs, quindi è prodotto sostenibile. Inoltre abbiamo recentemente lanciato una partnership con Fair Trade perché condividiamo i valori, quindi assolutamente sostenibilità, prendersi cura del pianeta e delle persone della catena di approvvigionamento. Siamo molto orgogliosi delle nostre persone. Per questo negozio abbiamo ricevuto oltre 2.100 candidature. Abbiamo nuovi 150 colleghi, per 28 di loro è la prima esperienza lavorativa. Un motivo d'orgoglio sono il nostro team manageriale che oltre il 60% di loro proviene da crescita interna e incluso lo store manager.